Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Marchinhos2503 dello staff di Mollerino Sport Channel Oggi siamo qui per un brevissimo video riguardante la Juventus Per chi non lo sapesse, io sono juventino, anche se non mi occupo in prima persona Generalmente di post partita della Juventus, però oggi lo faccio io Causa assenza del titolare, diciamo Però prima di iniziare a farlo, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale E anche una condivisione per tutti i vostri amici Così loro possono vedere anche questo video e possiamo crescere insieme come comunità Allora, parliamo di questo Juventus Fiorentina La Juventus vince l'ottavo scudetto di fila Però naturalmente la stagione, a mio avviso, non la possiamo considerare Come dire, la possiamo si considerare una stagione sufficiente Però i veri obiettivi che doveva avere la Juve, che doveva andare a prendere la Juve Non sono stati superati, diciamo, i veri esami Ovvero quello della Champions League Juventus che è stata buttata fuori dall'Ajax Però non ne voglio parlare in questo video La Juventus che è anche uscita dalla Coppa Italia a gennaio per mano dell'Atalanta Quindi soltanto due sono i trofei che la Juve si è portata a casa in questa stagione 2018-2019 Ovvero la Supercoppa Italiana contro il Milan a gennaio, se non erro E appunto lo scudetto Scudetto che è maturato oggi grazie a un 2-1 molto sofferto contro la Fiorentina La squadra allenata da Vincenzo Montella infatti si è comportata davvero molto molto bene allo Juventus Stadium Riuscendo a offrire un'ottima prestazione davanti a quella che è la miglior squadra d'Italia Una delle migliori sicuramente anche a livello europeo, quando vuole Allora la partita si è giocata sicuramente inizialmente con la Fiorentina che ha imposto un buon ritmo al gioco Ed è andato subito in vantaggio con Nicola Milenkovic al sesto minuto del primo tempo Successivamente la Juventus ha iniziato a prendere un po' più di campo Nonostante, essendo che la Juventus si attaccava, giustamente lasciava molti spazi per le ripartenze della Viola In particolare di Simeone e di Chiesa Uno di queste ripartenze è stato fermato da un Bonucci che ha fatto un intervento che vale quasi come un gol Il gol è arrivato al trentasettesimo minuto del primo tempo Su firma di Alessandro su calcio d'angolo Colpo di testa di Alessandro Che si fa trovare pronto e mi fa fare un più tre determinante al fantacalcio per vincere il mio fantacalcio Poi fine primo tempo Chiesa prende una traversa E poi inizia il secondo tempo con la Juve che è in pieno controllo della partita Arriva uno sfortunato otto gol di Germán Pezzella al cinquantatresimo minuto Ed è lì diciamo che Con la Juve che aveva risultato tra virgolette in cassaforte Anche se era solo un gol di vantaggio La Juve non ha dato alcuna opportunità Alla squadra di Montella di rendersi veramente pericolosa Tranne magari nel caso alla fine quando Chiesa è dovuto fare quella gran parata Ronaldo ha cercato il suo seicentesimo gol con squadra di club ma non ci è riuscito Ci riprogrà alla prossima partita che sarà una partita davvero molto sentita per la Juve Ovvero il derby d'Italia a Milano contro l'Inter Sarà una partita che credo che commetterò anch'io perché adesso parte della troupe se ne va in crociera Quindi diciamo che io sono uno dei pochi che resta Comunque ragazzi La Juve vince questo ottavo scudetto di fila Sono contento però Resta ancora la mare in bocca per L'esclusione dalla UEFA Champions League Ora vi vedo Inter-Roma E vi auguro di passare una buona Pasqua a voi famiglia Ci vediamo domani col post gara credo in inglese dell'Amstel Gold Race Ciao ciao